fumettologica.it è un sito web italiano dedicato ai fumetti che offre recensioni notizie interviste e approfondimenti sul mondo del fumetto il sito è caratterizzato da un'interfaccia semplice e intuitiva che permette agli utenti di navigare facilmente attraverso i contenuti proposti uno dei punti di forza di fumettologica.it rappresentato dalla qualità dei suoi articoli gli autori affrontano i fumetti con competenza e passione fornendo recensioni dettagliate e approfondimenti che soddisfano sia i lettori occasionali che gli appassionati più esperti inoltre il sito offre una vasta gamma di contenuti che spaziano dalla recensione di fumetti mainstream a quelli indipendenti permettendo agli utenti di scoprire sempre nuove opere un altro punto di forza la presenza di diverse opinioni all'interno dei contenuti proposti gli autori cercano di considerare diversi punti di vista garantendo una visione pluralistica e arricchendo così la prospettiva sugli argomenti trattati ulteriori considerazioni nell'infobox di questo video